Consigliere Formenti, in alcuni suoi ordini del giorno sono inclusi i pontili dell'anno. Cosa hanno bisogno questi pontili? Sì, ho presentato un ordine del giorno in cui chiedo la disponibilità di 8 milioni di euro che serviranno per l'ammodernamento e la manutenzione straordinaria di alcuni pontili del lago di Como. Stiamo parlando dei pontili di Bellagio, di Menaggio, di Varenna, di Griante. È un lago che sta sicuramente riscuotendo grande successo da un punto di vista turistico ma che ha bisogno di stare al passo con i tempi e quindi ha bisogno di ammodernare e di manutenere questi pontili e quindi che daranno ulteriore smalto a quello che è la nostra bellezza e nel nostro lago. Altro ordine del giorno riguarda invece una pista garlate per le BMX, sulla quale tra l'altro lei aveva già fatto un intervento su questo. Sì, oggi il Comune ha già pronto nel cassetto un progetto ben definito, con dei costi ben definiti quindi ho ripresentato e riformulato questo ordine del giorno in cui chiedo che Regione Lombardia dia delle risorse affinché questa pista per questo tipo di sport vengano messe a disposizione e vengano realizzate. Uno sport che in Lombardia non ha una disponibilità di strutture particolarmente elevate quindi garlate in un contesto particolarmente bello sul rive dell'Ada che potrà dare oltre ad un aspetto sportivo anche un aspetto turistico e di interesse particolare. Spero, anzi mi auguro che questo ordine del giorno che verrà approvato abbia in breve tempo una concretizzazione in modo tale che i nostri giovani, i nostri ragazzi possano in un impianto adeguato svolgere la propria attività, la propria passione e nel contempo dare un'ulteriore immagine positiva del nostro territorio.